Oggi è un lavoro di attendotto, a vogliare l'azienda intotto. Exit Café, in via Fitto all'Equile, è un locale per tutti i gusti. Per chi ama la buona musica e la buona gastronomia, dagli aperitivi al sushi, ma anche house music e musica commerciale. Gli eventi sono di vario tipo, dallo show di Romitex con la musica italiana ai DJ set con Sandro Litti e Maurizio Macri. Facile da trovare, Exit è all'Equile ed è una proposta nuova per i più giovani. Non un solo target, ma una grande possibilità di scelta gastronomica e musicale. Non manca la caffetteria e la possibilità anche di fare colazione e pausa pranzo in un ambiente giusto. Per il 3 dicembre prossimo, previsto il concerto del Gigi Quintet. Musica per intenditori e anche per non intenditori.